Decisamente bene, contenta, un bel percorso, un balisaggio eccezionale devo dire, quindi chapeau agli organizzatori perché è una delle gare balisate meglio che ho fatto e anche i ristori fornitissimi e frequenti. Il percorso è segnato benissimo, pulito e sicuramente ci tornerò di nuovo. Ma ho fatto un po' il mio ritmo, poi diciamo che l'ho cercato di gestirla, ho patito un po' il finale perché non arriva mai l'arrivo, però diciamo che è andata bene nel complesso.